Greetings world, we are anonymous. S.O.S. Secondo la legge del mare è chi nelle vicinanze ha l'obbligo di soccorrerli. Guarda caso arriva la marina militare italiana che stranamente è già pronta nelle vicinanze e li porta in Italia. Il traffico di clandestini che si compie quando le navi della marina italiana entrano in Italia con i clandestini a bordo è reato. Secondo la prassi internazionale andrebbero sbaccati nel paese da cui sono salvati. Il comportamento della marina che si arroga il diritto di violare la legge rappresenta per costoro un miracolo e sono instigati ad abbandonare l'Africa per giungere in Italia dove chiederanno lo status di rifugiati per avere diritto a sussidi e alloggi con l'obbligo di dimora in Italia senza poter circolare in Europa.